Dio non ci ha promesso una vita facile, ci sono tante difficoltà, ci sono tanti problemi, tanti combattimenti, ma Dio ha dato la soluzione ad ogni tipo di problema, ad ogni tipo di difficoltà, ad ogni tipo di malattia. Gli ha dato un nome che è una soluzione ed è una garanzia per chiunque crede in noi, Gesù Cristo è il Signore, è una garanzia, ve lo possiamo assicurare, perché sperimentare Cristo nella propria vita significa essere trasformati dentro e fuori. Quella luce che veniva prima è l'amore di Dio dentro di me, quell'amore che un giorno è venuto a bussare alla mia porta, ero una persona completamente distrutta, ma Cristo è venuto a bussare alla mia porta. E la mia vita è stata trasformata completamente e noi per questo cantiamo, per questo cantiamo, perché noi dobbiamo, dobbiamo raccontare di quello che Gesù ha fatto e non solo per noi, perché l'Evangelo è per tutti, la chiamata di Gesù è per tutti, Dio ha preparato una vita meravigliosa per tutti quanti e noi per questo vogliamo cantare. Dio ha preparato una vita meravigliosa per tutti quanti e noi per questo vogliamo cantare. Dio ha preparato una vita meravigliosa per tutti quanti e noi per questo vogliamo cantare. Dio ha preparato una vita meravigliosa per tutti quanti e noi per questo vogliamo cantare. Dio ha preparato una vita meravigliosa per tutti quanti e noi per questo vogliamo cantare. Dio ha preparato una vita meravigliosa per tutti quanti e noi per questo vogliamo cantare. Dio ha preparato una vita meravigliosa per tutti quanti e noi per questo vogliamo cantare. Dio ha preparato una vita meravigliosa per tutti quanti e noi per questo vogliamo cantare. Dio ha preparato una vita meravigliosa per tutti quanti e noi per questo vogliamo cantare. Dio ha preparato una vita meravigliosa per tutti quanti e noi per questo vogliamo cantare. Dio ha preparato una vita meravigliosa per tutti quanti e noi per questo vogliamo cantare. Dio ha preparato una vita meravigliosa per tutti quanti e noi per questo vogliamo cantare. Seguro che ho perce nichtmo cantare. Per tutti quanti e noi per questo vogliamo cantare e noi per questo voglio HAVE alongare. Seguro che non cantare e mi fanglia delle persone per questo continually. Dio ha preparato una vita meravigliosa per tutti quanti e noi per questo vogliamo cantare. Gesù, Gesù, Gesù Gesù, Gesù